Ahmed Qasim è uno dei talenti più interessanti del calcio svedese, in forza all'Elfsborg, attualmente in testa. Alal Svenskan è un attaccante esterno che ama partire da destra o da sinistra e che sa venire sempre dentro a giocare, prettamente a muoversi tra le linee per ricevere il pallone e poi andare a puntare la porta, ama giocare negli spazi aperti, in campo lungo e diventa un giocatore che ha grande progressione e soprattutto estrema tecnica nel dribbling e nel calcio. E' uno di quei calciatori che ti fanno innamorare perché ha una bella struttura fisica, una bellissima corsa, sa fornire assist, ha la fantasia per uscire dalle giocate difficili con un dribbling imprevedibile ed ha anche un bel calcio in porta. Col sinistro che ha il suo piede forte, un po' meno col destro dove deve andare a migliorare. E' un 2003, è molto giovane, deve crescere qualcosina in fase difensiva dove già comunque è migliorato. Lo seguono in Italia, Bologna ed Atalanta, potrebbe essere una sorpresa del calciomercato.